Buongiorno, siamo a Medicina per la manifestazione contro la soppressione dell'ambulanza con la soppressione dell'ambulanza e del servizio di radiologia del nostro ormai già ex ospedale. Ci ritroviamo a manifestare perché purtroppo l'Ausle di Imola ha deciso di cominciare a deputare i suoi tagli anche dalla punta dell'iceberg e dalla base, cioè dal servizio di emergenza, quindi Medicina rischia di passare tutto il territorio del circondare molese da tre ambulanze notturne a due e si è visto già l'altra sera, mercoledì sera, proprio la sera prima del Consiglio Comunale, un incidente in A14 che ha tenuto impegnato tutte e tre le ambulanze con chiamata dell'ambulanza da budro, quindi già il sistema vacilla adesso, immaginiamoci dopo due sole ambulanze e la copertura del servizio dei volontari che è essenziale ma deve essere integrativo e non sostitutivo, in quanto il personale dei volontari non è addestrato e formato come quello del 118 che hanno infermieri in grado di applicare già le prime cure e le prime terapie nel caso di situazioni già di codice rosso quando l'ambulanza viene chiamata. Il servizio di radiologia inoltre è ancora efficiente nel nostro ospedale, si è deciso di chiuderlo e trasferirlo a Castel San Pietro, confermato dal dirigente dell'ASRA, dal Consiglio Comunale straordinario dell'altra sera, quindi ci porteranno via all'ennesimo servizio del nostro ospedale che ha già chiuso molti anni fa in quanto ospedale. Perciò la situazione è drammatica e il tutto a nostro avviso è grave perché noi contestiamo i tagli di questo governo, ma è anche grave perché il circondario molese e la sua Ausl non sono in grado di gestire questi tagli e li stanno applicando assolutamente nella maniera più sbagliata possibile, perché come si vede guardando il sito dell'Ausl se uno scarica gli stipendi dei dirigenti si arrivano a svariati milioni di Euro che vengono spesi, è una spinta di una veramente tanti soldi, ci chiediamo perché non si parte riducendo il loro stipendio, anche perché, come è stato detto dal Dottor Pezzi, consigliere del PDL, basterebbe tagliare un dirigente e tutta questa situazione si potrebbe tranquillamente chiudere con il mantenimento del nostro mezzo di emergenza. Se alzano la testa contro il partito i cittadini di medicina andando in piazza vuol dire che veramente possiamo fare la rivoluzione. Il bello di questa piazza è che oggi qui c'è anche Nara Rebecchi, ex sindaco della città, che ha regalato questa città senza consultare i cittadini all'Aus di Imola, per una volontà politica di piccoli campanilismi per la costruzione del circondario imolese, questa mancata provincia che il PD aveva intenzione di fare, ed oggi voglio manifestare questa è la coerenza dei politici. Oggi perché siamo qua? Perché vogliono togliere un'ambulanza che è dedicata a questo comune, che è un comune importante, portando come motivazioni quelli dei tagli alla sanità da parte del governo. Non è vero. La sanità in Emilia Romagna ha 500 milioni di euro davanti ad un'amministrazione. In rapporto costi-benefici, quello che dà un'ambulanza in un comune come questo alla comunità e ciò che costa è sicuramente vantaggioso per il cittadino. Sono altri gli sprechi nella sanità e nei costi della politica che potremmo togliere. Non certo togliere a questi cittadini un'ambulanza senza neanche consultarli, però si sa che gli amministratori locali sono decisi dai segretari di fatto e devono tenersi stretta la poltrona. Fanno bene i cittadini a ribellarsi. A modo mio, sono contento un poco anch'io e a modo mio, a modo mio, sono contento un giorno anch'io e a modo mio. Ringrazio Dio, oggi la storia la faccio io a modo mio.